E' l'unica occasione. Dobbiamo coglierla. Ci serve Kong. Il mondo ne ha bisogno per fermare ciò che è in arrivo. E questa bambina è l'unica con cui vuole comunicare. So che avevano un legame. Lei non sapeva dove andare, quindi mi sono ripromessa di proteggerla. Credo che, in qualche modo, Kong abbia fatto lo stesso. È Godzilla. Questi sono tempi pericolosi. Godzilla va in giro a fare del male. e non sappiamo perché. C'è qualcosa che lo provoca che non vediamo qui. È la mia stessa opinione. I miti esistono. C'è stata una guerra. E loro sono gli ultimi ribasti. Chi si piega a chi? Kong non si piega a nessuno. Qui 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 si piega a nessuno. Grazie a tutti